Le manifestazioni di Commercio sono sempre civili e responsabili, ma vogliamo che al governo arrivi il segnale forte della disperazione delle nostre imprese. Per questo chiediamo un piano di riaperture al più presto possibile e chiediamo anche sostegni veramente adeguati alle perdite, moratori fiscali e creditizie più lunghe, perché le imprese sono il futuro e il futuro non si chiude.